ciao ragazzi sono blu fire voi siete da blu fire tv sono con ale valchetti sondra e siamo in un hunger game e ora boh non ecco noi perchè siamo tutti ai bordi della mappa andiamo in mezzo e vediamo se riusciamo a prendere qualcosa dalle ceste lui ha una cosa di rischio a riuscire a prendere un cazzo ne so sicuro ah comunque ciao ragazzi ma si ammazza mi ammazza sto stronzo io scappo vieni verso io sto seguendo cazzo ma c'è mario vieni in fondo la mappa e prendiamo del legno eh magari sapessi dove hai in fondo la mappa c'è uno che mi picca cavolo sto registrando non puoi uccidermi invece si che può non me ne frega niente se stai registrando ehm dettagli ecco ecco ti vedo ti vedo prendiamo un po' di legno sempre se si può prendere si può prendere vero si prendi tutto tu no si ce l'ho io prende eh tu io continuo a prenderlo te intanto non lo so fai qualcosa io faccio una spada dai fai una spada tipo qualcosa di utile no sarebbe il colmo che incominciamo a registrare e siamo già morti ok ci siamo cosa faccio una spada di legno o di pietra c'è una di legno eh ce l'hai della pietra aspetta adesso ce l'ho di legno eh ok ce l'hai della pietra o dobbiamo andare a minarla no dobbiamo minarla crea un piccone l'ho fatto io ah ok hai una spada eh no tieni ahia chi è stato occhio una pecora una pecora ah si è buttato oh no sei morto si va bene ragazzi noi seguiremo il nostro amico da il menu che culo che culo mi è caduta una mela avevo fame mi è caduta una mela in testa va bene ragazzi mentre lui gioca noi continuiamo a girare in tutto aspettando che finisca però lo ascoltiamo comunque così almeno ok ho una spada di pietra andiamoci da crafting e andiamo a vedere se becco qualcosa di buono allora ci saranno certi uccidiamo qualcuno questo qua ehi tu pivello sei spacciato era un pezzo di fence maledizione allora vediamo di non correre che tanto non serve corre 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 c'è qualcuno lassù segnale c'è qualcuno che grande mh camperone ok intanto io racconterò una storia ok ok broc muori sei spacciato io racconterò una storia tanto tempo fa in un cazzo di fottutissimo server per minecraft ma in un linguaggio amico ci fu il nostro fantastico amico no ucciso bro blu fire tv canale youtube blu fire tv ok son sicuro che il suo nome finisca col 97 o qualcosa del genere comunque io non sono sono bene io non sono sì questi sono pronti per morire ok quanta roba c'è sei morto? accendino pozione resistenza al fuoco sei morto? no no sono vivo un arco? no sono felice della tua sopravvivenza continuo ok adesso inizio a dare fuoco tutto va bene bravo bravo non ti vergogni glielo dirò la mamma dove siete sono dietro a quell'albero non c'è modo per trovarli aspetta vengo provo a guardare il tuo fantastico cosa aspetta vengo da te vediamo c'è questo perfetto ti guardo vedi gente? prova ad andare là nella specie di deserto no attento ecco ti vedo ti vedo faremo la telecronica eccolo guardatelo là vedi qualcuno? eh no attorno a te no per il momento farmi controllare no questo vuol dire fare cooperazione uno si suicida e poi spiega all'altro cosa fare io allora mando tutto a fuoco solo che la prossima volta si suicida allora ragazzi mi serve cibo adesso mando a fuoco gli alderi cadrà qualche mela no è impossibile ma sono proprio un pi pistola io io ho died ok no vabbè sono in acqua comunque che culo mamma mia questo si che culo trovare una tnt e avere un accendino che culo ok ok perché lui ha tutto sto culo non lo so prima dove andiamo? dove vado? non lo so si prezzi e awesome fantastico me ne fai ok non si 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 va bene va bene dai mi serve dove si si serve? ma non c'è più nessuno qua dentro c'è qualcuno che mi serve e invece è morto ah si hai vinto hai vinto è morto si è ucciso da solo hai vinto ho vinto? si si ho vinto bella raga sono morto però boh epic win da blue fire e e allora marchetti sogno è tutto grazie a tutti della visione ci vediamo nel prossimo episodio bye bye ciao ciao